Gentili telespettatori, buona giornata. Ed ecco che Giorgio Moulet, deputato di Forza Italia, svela chi ha pagato tutte le trasferte della dottoressa Boccia, del caso Boccia San Giuliano di cui si è parlato in questi giorni. E Giorgio Moulet dice che è tutta una storia privata. Il deputato di Forza Italia, ieri sera, ospite al programma Inonda di Marianna Aprile e Luca Telese sulla 7, dice ho parlato con San Giuliano, mi ha detto che tutte le trasferte, pranzi, cene di Maria Rosaria Boccia le ha pagate lui con la sua carta di credito personale, quindi non un euro di denaro pubblico. Quindi qui il fatto si sposta sul personale. Voi direte, vabbè ma saranno fatti suoi. Insomma, se c'è una persona che è al seguito del ministro, che riceve anche delle email in conoscenza alla dottoressa Boccia, email che non potevano essere indirizzate a persone estranee alle autorità di pubblica sicurezza o alle autorità politiche italiane, se voi mettete in conoscenza delle email, anche se stai dicendo che ti stai recando all'autogrill per mangiarti un panino e sono inerenti al G7, tutte quelle email sono classificate sotto la sicurezza nazionale, perché al G7 si riunivano capi di Stato dei più grandi paesi del mondo. Quindi tutto quello inerente al G7 è sotto la cupola della sicurezza della Repubblica e quindi non puoi mettere in conoscenza nessuna persona al di fuori, anche se ti segue. Pertanto voi direte, ma sono fatti personali? E no, non sono fatti personali. Non sono fatti personali. E quindi quelli dell'email e della sicurezza nazionale. Poi, insomma, Giorgio Moulet ha avuto l'autorizzazione di Gennaro Sangiuliano a dire che li ha pagati con la sua carta di credito? Voi direte, perché? È perché Gennaro Sangiuliano non è uno scapolone d'oro. Ha tanto di moglie, eh? Quindi capite che se Giorgio Moulet va in televisione a dire ho parlato con Sangiuliano, mi ha detto che ha pagato tutto lui con la sua carta di credito, ai 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 ai, insomma, si passa da un problema politico, anzi si somma un problema politico anche un problema personale di Sangiuliano. Ecco, quindi quando Giorgio Moulet di Forza Italia è in televisione davanti a un pubblico vasto, quindi fa delle comunicazioni di questo tipo, la domanda è, era d'accordo con Sangiuliano a fare queste comunicazioni? Tu sei in confidenza con Sangiuliano, ti dice una cosa e tu la vai a dire in televisione? è un po' diciamo complicata questa situazione, complicata soprattutto per il ministro, complicata per il ministro perché poi alla fine, alla fine poi queste cose vengono fuori perché la dottoressa Boccia presa da un impeto di, come si può dire, di, fatemi trovare la parola, di ostentazione, di mostrare agli altri, sapete che oggi viviamo nel mondo dove devi mettere sui social chi sei, no? Vice direttore esecutivo, amministratore delegato delle fotocopie sotto casa, no? Capo assoluto dell'ufficio dove ci sono solo io, insomma, sapete che oggi bisogna apparire, 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 avere dei titoli, avere degli incarichi di prestigio e magari questa signora è stata presa dall'asmania ed è andata a scrivere su Instagram, sono la collaboratrice del ministro per gli eventi, per i grandi eventi e così ha messo nei guai il ministro, lei ha cresciuto la sua popolarità perché ha i titoli di giornale, ha gli articoli, ha cresciuto la sua popolarità, però diciamo che ci sta rimettendo San Gennaro, San Gennaro si chiama, com'è che si chiama? Ah, San Giuliano, ogni volta mi confondo e lo chiamo San Gennaro, no? Il tesoro di San Gennaro. San Giuliano l'ha messo nei guai, però quando ci sono queste cose, capisce a me, devi mettere in conto che alla fine può saltar fuori tutto, ti beccano, devi mettere in conto che quando c'è una signora che ti segue in giro per l'Italia, eccetera eccetera, prima o poi, prima o poi, magari più prima che poi o più poi che prima, le cose vengono fuori, quindi quando hai una signora che ti segue negli appuntamenti istituzionali, devi mettere in conto che hai il tempo contato, passa una settimana, passa un mese, passano tre giorni e la cosa viene fuori e ti devi poi assumere la responsabilità di tutto quello che ne scaturisce dopo che ti hanno, tra virgolette, beccato. In realtà non è che ti hanno beccato, tu hai fatto tutto alla luce del sole, però poi arriva alle orecchie di chi magari non doveva sapere. Beh, insomma, diciamo che intanto le opposizioni in sé orgono, il PD si interroga sulla condizione attuale di San Giuliano e dicono è sottoricatto e con Irene Manzi chiede che riferisca in Parlamento. Italia Viva con Scalfarotto ha avviato una raccolta firme per chiedere le dimissioni e dice il ministro non solo ha mentito ed esposto Pompei al ridicolo, ma ha anche messo a rischio la sicurezza del G7 e quindi anche della Repubblica Italiana. Per Carlo Calenda si tratta di una vicenda tragicomica. Eh, eh, direi che sono d'accordo con Calenda, è una vicenda tragica e comica, tragicomica, e dice Calenda le dimissioni gli vanno chieste per come ha fatto il ministro della cultura. Elisabetta Piccolotti di AVS dice più che il ministero della cultura sembra un fotoromanzo di scarsa qualità e che un personaggio grotteschi. i fotoromanzi, i fotoromanzi, ma esistono ancora i fotoromanzi. Negli anni Ottanta c'erano i fotoromanzi, vi ricordate? I fotoromanzi. Dice però, fotoromanzi però di scarsa qualità con personaggi grotteschi. E insomma, diciamo che... Lasciamo perdere, eh? Lasciamo perdere. Arrivederci a tutti e grazie.